Di una grande figura, di un grande uomo, di un grande personaggio, si tratta sempre, a mio avviso, di capire la qualifica fondamentale, capire il suo centro, il suo cuore, la passione ideale che lo guidava. Questo vale per Confucio, di cui adesso parlerò, ma naturalmente vale, come ho detto, per ogni grande uomo, per ogni grande donna, che sono grandi esattamente perché hanno un'idea, una passione, attorno alla quale raccolgono, coltivano, incrementano, eccetera, eccetera, insomma, trovate tutti i verbi che volete, le varie esperienze. Hanno un centro, sono centrati e come tale possono centrare anche noi, possono unificarci. E forse il senso della vita sta esattamente nel trovare una, a volte una figura umana, a volte un'idea, a volte una musica, a volte un'estetica, a volte non so che cosa, un'idea religiosa, attorno alla quale unificare noi stessi e trovare la nostra Itaca, trovare casa, non per accasarci, ma per sapere verso dove camminare. Ebbene, questa è la premessa per dire che io qualifico Confucio come un politico. Politico naturalmente da intendersi, siamo destinati noi a dover subito qualificare meglio l'aggettivo, non nel senso appunto usuale del termine di una persona che cerca il potere e poi lo amministra più o meno come è in grado di fare, ma di una persona che aveva a cuore il bene comune, la polis, la città, la convivenza umana per la quale Confucio studiava, per la quale Confucio meditava e per la quale auspicava l'armonia. Grandissimo concetto del confucianesimo, del taoismo, del tao, il tao è l'armonia, armonia cosmica e poi anche armonia politica e poi anche armonia singolare, del singolo, che nella misura in cui è in armonia con il mondo e nella misura in cui è in armonia con gli altri uomini è anche in armonia con se stesso, è chiaro, no? Quindi Confucio è questo, io tenterò di presentarvelo sotto questa luce fondamentale. C'è da dire una cosa però, che a Confucio sarebbe stata gradita anche un'altra qualifica, non solo quella di politico ma anche quella di studioso, amava tantissimo lo studio. Un giorno capitò, allora Confucio nacque nel Principato di Lu, il Principato di Lu che era uno dei diversi stati della Cina di quel tempo. Stiamo parlando del VI secolo avanti Cristo, 2500 anni fa. La Cina era divisa in tanti stati, anzi era un periodo degli stati combattenti perché si facevano guerra l'uno con l'altro, un po' come l'Italia del Rinascimento, grosso modo. Ebbene, lui nel Principato di Lu nacque e iniziò la carriera amministrativa e politica arrivando a essere Ministro della Giustizia di questo Principato, di questo Stato. Se non che forse era troppo bravo, forse era troppo intransigente, non lo sappiamo quale fu la ragione precisa ma di fatti lo fecero fuori, attraverso un intrigo che adesso non è il caso di ricordare, lo fecero fuori e lui non combatté in nessuna maniera per mantenere il suo posto di potere e se ne andò e cominciò con i suoi discepoli a girare la Cina per 14 anni, gli altri stati, per capire, per studiare, per studiare le leggi, i riti, le costituzioni, per capire come gli uomini vivono insieme, per capire qual è quella formula o quelle formule che riescono a ottenere quella disposizione così preziosa che appunto chiamiamo armonia, in questo caso l'armonia sociale, com'è possibile ottenerla? Gli uomini, gli esseri umani sono spesso così antipatici gli uni verso gli altri, così ecoisti, così rivolti verso se stessi, come renderli un corpo coeso, un'orchestra sinfonica e non tanti solisti che vogliono primeggiare sopra l'altro il cui risultato complessivo è una cacofonia, come ottenere una sinfonia? Ecco questa è la domanda che Confucio poneva a se stesso e per questo andava in giro nei diversi stati curiosando e tentando di capire le leggi, ebbene capitò, veniamo al discorso di Confucio studioso, capitò che un giorno in uno di questi stati un potente del luogo, avendo sentito parlare di questo ex ministro che girava e chiedeva e così via, incrociò un discepolo di Confucio e gli chiese informazioni sul suo maestro e il discepolo non disse nulla, poi tornò da Confucio, riferì il fatto e Confucio disse così, tu avresti dovuto rispondere così. Il mio maestro è una persona che per l'accanimento di apprendere dimentica di mangiare e per la soddisfazione di aver compreso dimentica le afflizioni e in tal modo non si accorge che la vecchiaia sta arrivando. È il ritratto di un uomo molto fortunato, è il ritratto di un uomo che ha trovato il suo centro, la sua passione ideale, che lo guida lungo il viaggio della vita e che nel suo caso è lo studio e riempie la vita di gioiosa la buriosità, per cui non ha importanza al mangiare, non ha importanza allo scorrere del tempo, neanche si accorge che sta invecchiando perché tutte le volte che impara qualcosa autenticamente ringiovanisce. E questo è molto bello. E quindi voi capite che certo è la politica, ma la politica intesa proprio come ricerca dell'arte, di quella disposizione fondamentale attraverso la quale gli esseri umani possono giungere in armonia e quindi ricerca e quindi studio e quindi le due cose sono collegate. Ma il passo che più di ogni altro, di tutti gli scritti su Confucio che ci sono giunti, parentesi, Confucio, così come il Buddha, così come Socrate, così come Gesù, non scrisse nulla. Noi non abbiamo i libri di Confucio, noi abbiamo degli scritti che raccolgono alcuni suoi detti. Il testo principale voi lo potete trovare o sotto il titolo I dialoghi, o sotto il titolo Analecta, o sotto il titolo Detti di Confucio, in ogni caso sono raccolte. Sono raccolte di detti che i diversi discepoli trascrissero e che poi sono giunte sino a noi. Ebbene, comunque, all'interno di questi degli Analecta, io preferisco chiamarli così, all'interno degli Analecta Confuciani, il passo che più di ogni altro, secondo me, ci fa sentire la sua voce. Ce ne sono molti passi in cui sentiamo la voce di Confucio, ma il passo che più di ogni altro, secondo me, ce lo descrive a tutto tondo, è il seguente, che adesso vi leggo e che è ancora tanto più incisivo perché è la prima persona singolare. Ah, vedete, c'è una maniera di dire io che è detestabile, è chiaro che sì, c'è una maniera di dire io che io, 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 che... e allora capisco le persone, gli studiosi che dicono che l'io è detestabile. Pascal, per esempio, diceva così, Simone Weil, per esempio, dicevano così, perché c'è una maniera di dire io che davvero è eccessiva, strabordante, non conosce l'altro, non conosce il tu, conosce solo l'io, e va bene, ma c'è una maniera di dire io che è sincera, che mette la faccia in quello che sta dicendo, che lega le parole alla sua esistenza. Questa è una modalità molto preziosa, molto profonda, di poter dire io. Non è vero che l'io è sempre solo male, come una certa mistica, una certa spiritualità, intende dire. Non è vero che è sempre solo bene, come una certa psicanalisi, eccetera, eccetera, intende dire, coltivando per forza sempre comunque il desiderio, qualunque cosa che emerge dall'io va bene. No, né uno né l'altro, secondo me, dipende la disposizione con cui noi pronunciamo, il pronome, la prima persona singolare, è tutto quello che naturalmente questo porta con sé. Sentite così come si presentava Confucio. A quindici anni mi determinai allo studio. A trent'anni consegui l'autonomia. A quaranta non ebbi più tentennamenti a motivo dei dubbi. A cinquanta compresi il mandato celeste. A sessanta il mio orecchio si rese ricettivo. A settanta aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. voi avete un vecchio che guarda come dall'alto la sua esistenza e la racchiude, come una salita di scale, una processione, un itinerario, qualcosa si compie. Anche qui penso che sia estremamente fortunato un essere umano che giunge a poter guardare a se stesso, alla sua esistenza come un lavoro compiuto. Ho fatto qualcosa nella vita, non è trascorso in vano questo mio tempo, ho lavorato su di me, ho ottenuto dei risultati, ma non sono diventato più ricco, sono ottenuto il premio così. No, ho lavorato su di me. Questo è bellissimo, questo lavoro interiore, che è il lavoro più prezioso. A quindici anni la determinazione fondamentale della vita, mi determinai allo studio. Studiare, adesso lo vedremo, studiare, studiare, cioè conoscere, cioè capire che il mondo, le cose fuori, la cultura, le informazioni, c'è qualcosa che devo apprendere, non devo, se voglio coltivarmi, se voglio crescere, non devo coltivare questo mio io, sempre io, uguale io, io, tornare su di me, sui miei desideri, no, devo aprirmi. Studiare, in questo senso, il grande mare dell'essere, per citare Paradiso, il primo canto, lo gran mare dell'essere, ecco, il grande mare dell'essere, devo nuotarci dentro, non lo conoscerò mai tutto, è evidente, è molto più grande di me, ma voglio farlo, per quanto è possibile. Questo è la determinazione allo studio, la conoscenza. È sempre Dante, viene in mente, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, o canoscenza, come si può dire in una maniera o nell'altra. Va bene. Lo studio. A 30 anni l'autonomia, a 40 non ebbi più tentennamenti, a 50 compresi il mandato celeste, bellissima questa cosa, grande fortuna, grande fortuna di un essere umano che capisce che esiste un mandato celeste. Voi lo potete chiamare Dio, lo potete chiamare cielo, come lo chiamava lui, Tien, lo potete chiamare energia, la potete chiamare divinità in senso neutro, spirito, cosmo, anche natura, Deus sive natura, come Spinoza, ma insomma esiste una potenza più alta che verso di me, verso di me è un messaggio. Io non sono qui, come dire, in balia del nulla, ma c'è un messaggio, c'è un messaggio che diventa un mandato, proprio come un messaggero riceve un mandato da un soldato, riceve un mandato dal suo comandante, qualcosa da fare, una missione, una missione, una vocazione, c'è un mandato. Secondo me è molto bella questa interpretazione dell'esistenza, perché unisce l'autonomia personale, qui non c'è nulla, non c'è quella dipendenza esteriore, c'è l'autonomia personale di uno che studia, di uno che consegue, di uno che ricerca in prima persona, e così via, ma c'è poi un'ubbedienza suprema, c'è poi un'ubbedienza suprema, a cui tu stesso giungi, non è che c'è qualcuno che... tu stesso consegui il mandato celeste, comprendi il mandato celeste. A 60 il mio orecchio si rese recettivo, a 70 aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. Questa l'ultima definizione dice di un uomo che è istintività e moderazione e equilibrio a contempo. Ha così lavorato su se stesso che il suo istinto è diventato musicale, equilibrato, armonioso. Allora non ha più bisogno di controllo, capite? Non ha più bisogno di reprimere proprio un bel niente, è la sua natura che è diventata armoniosa e quindi aderisco, aderivo ai moti del cuore senza commettere eccessi. diventa una natura bella, sana, risanata, pacificata, saggio, il saggio, il saggio. Ecco, questo passo proprio è indicativo della padronanza a cui Confucio pervenne. È proprio così. Allora, ma perché quindi io parlo di Confucio come un politico e non come uno studioso? Ma in parte l'ho accennato, precisamente perché la finalità dello studio, quindi lui è certamente uno studioso, era innamorato dello studio, ma la finalità di questo studio era la polis, era la città, era il convivere degli uomini tra di loro e degli uomini anche al loro interno, perché anche noi, se ci pensate bene, siamo una polis. Non vi è mai capitato di sentire più voci dentro di voi e di trovare un accordo e di avere anche una costituzione? Lo diceva anche Beethoven, c'è un passo di Beethoven che dice così come gli stati hanno una costituzione, così anche ogni singolo deve avere una costituzione. Ma la costituzione potete chiamarla regola di vita, potete chiamarla ideale, chiamatela come volete, ma è importante che uno capisca che vivere richiede, per essere all'altezza di questa grande missione, richiede appunto una costituzione. Quindi il termine politica è da intendersi proprio in questo senso ampio del termine, qualcosa che riguarda il singolo e qualcosa che riguarda l'insieme delle diverse facoltà che compongono un essere umano, delle diverse facoltà, delle diverse voci, delle diverse inclinazioni, istinti. Siamo unitari? Possiamo essere un soggetto unitario? O siamo destinati alla disarmonia anche a livello interiore? Come la pensate? Ecco, secondo questa visione del mondo noi siamo una città, noi stessi possiamo armonizzarci, non siamo destinati a essere una sequenza di maschere ogni volta e di personaggi ogni volta diversi a seconda delle circostanze, a seconda delle relazioni e cadere in un relativismo alla fine nichilista. No, possiamo essere autentici, possiamo avere una costituzione, possiamo avere un volto, possiamo essere veri. Ecco, per fare questo occorre studiare. E se non studi? Se non studi? E occorre studiare capendo una cosa, capendo che esiste una grande tradizione alle tue spalle, avrebbe detto Confucio rivolgendosi a voi, una grande tradizione alle vostre spalle a cui collegarvi. Il concetto di tradizione o anche di riti o ritualità è decisivo e lo è in generale per l'Oriente. Se voi andate in Oriente vedete come c'è molta meno spontaneità, sembra, no? Ma perché c'è molta più ritualità, c'è molta più ritualità, perché le persone capiscono che non si deve vivere così come ti passa per la testa. No, esistono dei riti del vivere, esistono delle forme del vivere, delle consuetudini legate alle cose più semplici della vita, per esempio camminare. Non è che cammini come vuoi. Certo, puoi camminare come vuoi, ma se vuoi camminare come un essere umano devi avere un certo tipo di andatura. Salutare. Quando si salutano le persone, tu puoi salutare senza guardare negli occhi le persone, senza accetto, puoi anche fare così, ma se vuoi dare il saluto alle persone, nel vero senso della parola, augurando salute, la saluto è la salute, una salute fisica, una salute psichica, se vuoi conferire per quanto è possibile salute con le tue parole, beh devi coltivare l'arte del saluto, così come l'arte del mangiare, così come la maniera di vestire, così come la maniera di disporsi, così come la maniera di parlare. Questi sono riti. Vedete qualcuno degli studiosi, qualcuno dice Confucio non era religioso, in Confucio non c'è la religione, ma bisogna intenderci naturalmente, se pensiamo alla religione come andare in chiesa o nel caso al tempio, avere dei precisi precetti diversi da quelli della vita, è vero, certo, ma in Confucio in realtà tutto è religione, tutto. Mangiare è religione. Negli Analecta ci dice che lui mangiava con una determinata disposizione, tutto doveva essere curato, non si sedeva se le cose non erano al loro posto, ci doveva essere silenzio durante il pasto. Magari può essere eccessivo per qualcuno di voi, forse anche per me è eccessivo, ma ognuno poi si deve, come dire, gestire la ritualità personale come meglio crede, ma questo era semplicemente per dire che in Confucio tutto è ritualità, tutto è religione, tutto deve diventare un rito. Pensate al lutto. Per Confucio la celebrazione del lutto aveva grande importanza, lo dico anche in questo periodo, in questo periodo che stiamo vivendo, dove molti hanno avuto più lutti del solito, no? E dove non ci sono segni di lutto. Noi facciamo di tutto per togliere, perché abbiamo paura, abbiamo tolto i segni del lutto, che è un tempo che per anni e anni, per secoli e secoli accompagnavano il nostro cammino. Allora succede che uno ha ricevuto un lutto, ha avuto una morte di una persona carissima e deve far finta di nulla quando si presenta con gli altri, deve essere come sempre, come la società oggi lo vuole, al re, allegro, redacchiante, tutti gli altri devono essere allegri e ridacchiare e così via, essere simpatici e così via. È dentro la morte lui o lei e nessuno lo sa e nessuno lo vuole sapere. E invece le civiltà alle nostre spalle coltivavano questa dimensione del lutto. E Confucio, se voi leggete i suoi testi, naturalmente li leggerete, se li avete letti li leggerete e vedrete come la dimensione della coltivazione del lutto, aveva molta importanza per Confucio. Sostanzialmente l'idea di fondo è che non esiste niente al mondo che non richieda ritualità, che non debba essere pensato, coltivato, l'igiene personale, lavarsi, pettinarsi, ma qualunque cosa, qualunque cosa voi possiate pensare. Fare l'amore, la sessualità, i rapporti, abbracciare i figli, disporsi, cioè tutto deve essere pensato, tutto deve essere nutrito di cura. Certo il rischio qual è? È che si diventa rigidi, no? Perché formali, formalisti, ma se queste cose invece sono pensate profondamente dall'interno, allora succede che si segue la spontaneità senza commettere eccessi, come è successo a Confucio al termine della vita. Si diventa spontaneamente rituali, perché tutta l'esistenza è pensata così. Adesso vi vorrei leggere un brano di un filosofo confuciano che si chiamava Cenz dell'undicesimo secolo, quindi 1500 anni dopo Confucio. Parlando di Confucio noi parliamo del cuore pussante della Cina, anche della Cina contemporanea. Il confucianesimo per 2000 anni è stata la guida politica e spirituale del Celeste Impero. E quando adesso la Repubblica Popolare ha dovuto trovare la maniera di parlare, di presentare la propria lingua al mondo, come ha chiamato gli istituti di cultura e di lingua cinese? Li ha chiamati istituti Confucio. Poi lasciamo perdere la modalità con cui lo Stato comunista attuale sia o meno all'altezza del confucianesimo, del senso di umanità, adesso vedremo presto qual è il centro del centro della filosofia confuciana, cioè la lasciamo perdere che ovviamente è molto distante tutto questo. Ma in ogni caso, torniamo al brano di Cenz. Il brano di Cenz è il seguente. Al mondo non esiste alcunché che non implichi la ritualità. Persino tra ladri e briganti della peggior risma vige il senso di ritualità. Per poter saccheggiare, infatti, è necessario che anche tra loro ci siano dei capi e dei subordinati che reciprocamente si ascoltino e obbediscano, altrimenti saccheggi e ruberie non potrebbero avere luogo. Non vi è alcunché che non comporti ritualità e per chi studia è quindi essenziale sapere come conseguirla. La ritualità. Capite che la ritualità ha a che fare con quello che noi potremmo chiamare logica della vita. Tutte le cose hanno una logica. E si tratta di capire qual è questa logica, di capirla, di studiarla e poi di obbedire a questa logica. Se lo fai, l'azione avrà successo e tu sarai un uomo sereno e felice. Se no, no. Quello che è veramente... Quando mi sono imbattuto in questo brano di Cenz, io ho detto a me stesso, ma io questa cosa l'ho già letta. Era la prima volta che leggevo questo filosofo confuciano. Però ho detto questa cosa l'ho già letta. Avevo pensato, ho pensato e sono arrivato. Sì, è vero, l'ho letta. L'ho letta nella Repubblica. Nel primo libro della Repubblica di Platone. Poi ripresa anche da Cicerone. Cicerone la riprende da Platone. È chiaro. Cicerone era andato ad Atene, aveva studiato, ho studiato molto Platone, apparteneva alla Nuova Accademia. Va bene, è chiaro. Ma Platone non la riprende da Cengs che viene molti anni dopo, è evidente, mille anni dopo. Ed è evidente che Cengs non l'ha ripresa da Platone, immagino, perché nella Cina dell'undicesimo secolo non c'era la Repubblica di Platone. Sentite cosa dice Platone, rispondendo le parole che Platone fa dire a Socrate, rispondendo a un sofista di nome Trasimaco che diceva che l'unica cosa che al mondo c'è è la forza e l'impero della forza e così via. E dice così, dice, ti sembra Trasimaco che una città o un esercito o una banda di delinquenti o di ladri o qualsiasi altra associazione che si formi allo scopo di delinquere potrebbe combinare qualcosa se al suo interno si comportasse al di fuori di ogni principio di giustizia? Domanda retorica alla cui risposta è no. Ma è esattamente la stessa cosa che dice Cengs. Al di là della distanza di tempo, di spazio e tuttavia la saggezza umana, così come riesce a capire che due più due fa quattro, per fare un esempio banale, così come riesce ad avere uniformità, unità a livello matematico, a livello scientifico, allo stesso modo riesce a avere uniformità a livello di quella scienza che noi potremmo chiamare l'etica o se volete la politica, che per Confucio sono la stessa cosa come vedremo. E questa cosa è bellissima, questa cosa è estremamente consolante. La verità quando è universale, quando è vera, o è universale o non è. E quindi vuol dire che così come esiste una verità matematica, scientifica di cui nessuno dubita oggi, allo stesso modo esiste una verità etica di cui tutti dubitano invece oggi. Ma questi brani ci fanno capire che l'armonia è la base di ogni cosa, persino di una banda di ladri, che non potrebbe sussistere, non potrebbe operare se non ci fosse un accordo, se non ci fosse giustizia nel dividere il bottino, se non ci fosse gerarchia per cui c'è un capo che decide chi fa che cosa, eccetera eccetera. Ecco, si tratta di studiare i riti, si tratta di studiare i riti per ottenere che cosa? Per ottenere la polis, la politica, l'armonia. E quando faccio questo che cosa ottengo? Ecco cosa dice Confucio. Il nobile si dedica alla radice. Quando la radice è stabile, la via prende vita. Ecco, il nobile si dedica alla radice. Certo, io, come dire, ecco, capite l'unificazione. Finora io ho avuto a che fare come con tante cose. Devo capire come mangiare, devo capire come sedermi, devo capire come vestirmi, come vestirmi nei tempi di lutto, devo capire come comportarmi con il sovrano, con la moglie, con i figli. Devo capire, va bene, tutte queste cose insieme, come scrivere, la calligrafia, come tirare con l'arco, come guidare il carro, come la musica, l'aritmetica, tutte cose importantissime. Queste erano le materie di cui Confucio dava insegnamento ai suoi discepoli. Devo capire tutte queste cose. Ma ciò che ottengo è la radice. Questo è decisivo. La radice, la radice di me, come essere umano, come essere vivente. Quando la radice è stabile, la via prende vita. La via, che cos'è la via? Tao. Il Tao prende sempre vita. Non è che aspetta me, prende vita dentro di me. Se io colgo la radice del mio essere uomo, del mio essere umano, allora il Tao prende vita dentro di me. E non sono più una bandieruola, non sono più una sequenza di maschere, non sono più falso, sono un uomo. Questo è il Tao. Adesso vorrei introdurvi così, come si può fare, con poco tempo a disposizione, in quello che è il cuore dell'etica confuciana. Il cuore dell'etica confuciana consiste in una parola che viene tradotta, io non so il cinese, ho studiato ovviamente i testi così, quindi mi baso su quello che i diversi sinologi dicono, la parola è ren, che viene tradotta in diversi modi. C'è chi la traduce umanità, chi senso di umanità, chi carità, chi altruismo, chi generosità, benevolenza, ancora cosa c'è, generosità, magnanimità, altruismo, non so se l'ho già detto, insomma le varie cose. Ecco, io seguo chi traduce senso di umanità, è quella che preferisco, ma così semplicemente, questo è il cuore dell'etica confuciana. La cosa importante è capire questo, che la parola ren, dicono sempre i sinologi, questo termine, significa anche uomo, essere umano. Il che significa? Essere uomini e essere umani è la medesima cosa. Se non sei umano non sei un uomo, ne hai la parvenza, certo che sì ne hai la parvenza, ma non sei all'altezza della tua natura, non hai scoperto la tua radice, sei un'opera imperfetta, incompiuta, se non sei umano non sei un uomo. Vuoi essere, vuoi compiere l'opera che devi essere umano, cioè avere il senso di umanità, cioè coltivare ren. quello che colpisce della spiritualità o filosofia o religione o quello che volete voi confuciana è l'ottimismo. Io non conosco una tradizione spirituale così ottimista sul fenomeno umano come quella confuciana. Han Cheng, che ha scritto tante cose, tra cui un sinologo di fama internazionale, la sua opera principale è la storia della filosofia, storia del pensiero cinese, pubblicata in due volumi in Italia da Einaudi, parla a proposito di Confucio proprio della formidabile scommessa sull'uomo. Una formidabile scommessa. E questa scommessa consiste esattamente nel fatto che l'uomo può giungere a essere umano e quindi a compiersi. E per compiersi non deve ascoltare chissà quale rivelazione che arriva da fuori, non deve andare chissà dove, deve lavorare dentro di sé. Deve lavorare dentro di sé. Forse adesso siamo nella condizione di ascoltare questo detto molto importante che si trova negli analecta. Forse adesso io ve lo leggo e lo potete capire meglio che prima, se sono riuscito a smettervi qualcosa. Allora qui abbiamo a che fare con Confucio, con il maestro e con uno dei discepoli più dotati che si chiamava Zengz. Allora Confucio dice Zengz assentì proprio così. Quando il maestro andò via, gli altri discepoli chiesero cosa intendeva dire. Zengz rispose, ciò di cui parla il maestro non è altro che coscienziosità e reciprocità. Qui sostanzialmente abbiamo il maestro che si rivolge forse al primo della classe, insomma uno dei primi della classe. Non era il suo preferito, il suo discepolo preferito si chiamava Yang Yuan, è il numero uno per Confucio era questo, ma diciamo che, insomma, si rivolge a forse Yang Yuan era morto, perché è uno dei discepoli della cui morte si parla e se voi leggetegli analecta di Confucio vedete il grande dolore di questo saggio, che è tutt'altro che imperturbabile, perché piange, sconsolato, perché questo discepolo che lui amava tantissimo e che era estremamente dotato, eccetera, umile al contempo, di famiglia povera e che si era fatto proprio precisamente da sé, rimanendo umile. Questa cosa per Confucio era straordinaria e muore. E va bene, e si vede il lutto, la disperazione di Confucio, così come viene presentata nelle fonti. Forse era morto Yang Yuan, forse per quello che non è dato saperlo, Confucio si rivolge a Zengz. In ogni caso si rivolge a uno dei più dotati e gli dice la mia via, il mio Tao, cioè qual è il mio sentiero, è cogliere l'unità che fa da filo conduttore, questo è importante, volete chiamarla la radice, chiamatela la radice, volete chiamarla l'unità, il filo conduttore, la stessa cosa, trovare il centro, ecco, fil rouge, il filo rosso, trovare, trovare, questo è importante. Questo è importante. E Zengz dice proprio così, poi gli altri dicono ma cosa intendeva dire, insomma quegli altri non hanno capito e si rivolgono, ci spieghi che cosa intendeva dire il maestro. Ciò di cui parla il maestro non è altro che coscienziosità e reciprocità. Qui ci sono due concetti importantissimi, il primo è quello di filo conduttore e il secondo è quello di reciprocità. Ciascuno di voi deve trovare il filo, il proprio, il suo filo conduttore. Questo è il senso della, se volete, della ricerca spirituale, si parla di ricerca spirituale, che è cercare il filo conduttore, cioè lo potremmo anche chiamare visione, se lo trovate, vi piace anche la visione, la tua filosofia di vita, la tua visione del mondo. E la seconda cosa è il concetto di reciprocità. Il concetto di reciprocità che ci fa capire che Thomas Merton direbbe nessun uomo è un'isola, ma noi potremmo dire che niente è un'isola. Non esistono isole. Tutto è connesso, interconnesso. Del resto anche l'isola, pensate, un'isola può essere un'isola perché c'è il mare che la circonda. L'isola non esiste, non esiste niente che sia isola. Anche l'isola c'è perché c'è il mare che la circonda. È la distanza dalla terra ferma. Quindi l'isola c'è grazie al mare. Quindi nulla è isolato. Tutto ottiene, è quello che il Buddha chiamava la genesi interdipendente, pratiti a Samutpada. È la stessa cosa, è la stessa visione delle cose. L'interconnessione del tutto, il grande respiro che tiene insieme tutte le cose, reciprocità. Quindi la reciprocità, prima ancora che essere un concetto etico, è un concetto fisico. Poi diventa anche un concetto etico, chiaro, perché l'etica è la traduzione, nella prassi, della verità fisica. Altrimenti è moralismo. L'etica, quella vera, l'etica pulsante, che cos'è? È esattamente la traduzione pratica, nelle tue azioni, della verità fisica delle cose. E qual è la legge fisica delle cose? È reciprocità, interconnessione. E allora tu sei intelligente nella misura in cui ti comporti con reciprocità con gli altri, favorendo l'interconnessione. Ecco la persona etica. Non ha niente a che fare col moralismo bacchettone, ha a che fare con l'intelligenza. Mentre la non etica ha a che fare con la stupidità. Chi non capisce quali sono le regole delle cose, quali sono le leggi fondamentali. Un po' come uno che si presenta a un party la sera, così, vestito con costume da bagno. Ha proprio sbagliato. O viceversa, si presenta con smoking e cose così in spiaggia. Ha proprio sbagliato. Non ha capito come sono le regole delle cose, ci sono delle regole. Se vuoi essere felice, per quanto è possibile. Reciprocità. Sengz poi spiegava, in una variante del testo, ancora meglio, ciò a cui il maestro allude è semplicemente comportarsi con gli altri come ci si comporterebbe con se stessi e non far subire agli altri quello che non si vorrebbe per se stessi. Abbiamo a che fare, forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, con la regola d'oro. Questa è quella che viene chiamata regola d'oro ed è presente in tutte le tradizioni spirituali. Il primo a formularla, la prima attestazione, la troviamo in Confucio. È lui il primo a parlare di, a formulare questa che poi la tradizione successiva, questa formula che la tradizione successiva ha denominato regola d'oro. E compare in diversi altri passi degli analecta. Per esempio, in un altro si legge, ciò che non desideri per te, non imporlo agli altri. Analecta 12.2. Oppure un discepolo che si chiamava Zikong, che prende spesso la parola. Ecco, Zikong è uno di quelli, quando voi leggerete gli analecta, vedete questo nome, è uno di quelli impulsivi, non sempre capisce, però è utile perché anche noi non sempre capiamo, siamo un po' tutti Zikong e quindi le sue domande sono utili per comprendere. Zikong domandò, esiste un precetto che per tutta la vita possa essere messo in pratica? Uno, è una bella domanda comunque, uno complessivo, sapendo il quale poi sono a posto per tutto perché non posso avere presente tutti i riti. Esiste uno, il maestro disse, certo, è il principio di reciprocità, ciò che non desideri per te non imporlo agli altri. Ed eccoci qua. Hai capito questo? Hai capito questo? Che la legge fisica, il respiro fisico dell'essere è la reciprocità e che tu poi devi esattamente comportarti con coscienziosità e reciprocità, è quello che non desideri per te, non imporlo agli altri, è quello che desideri per te auspicarlo per gli altri, perché nella linea lecta troviamo anche la variante positiva, quella che poi Gesù riprende nel discorso della montagna, Matteo capitolo 7. Quando hai capito questo hai capito tutto, hai compreso il mandato celeste, il mandato di una natura che puoi interpretare come divina, puoi interpretare non come divina, puoi interpretarla come sei paese, ma che non è cieca, che non è muta. Ha un messaggio questa natura, questo messaggio si chiama reciprocità, relazione, interconnessione. Ce lo insegna tra l'altro anche la fisica contemporanea. Questo è il messaggio che l'essere ti consegna, l'essere che è iscritto dentro di te, oltre che nelle piante, oltre che nell'aria che respiriamo, la quale appunto è interconnessione, anche l'aria è reciprocità, perché se non ci fosse il saluto reverente che l'ossigeno fa l'azoto e l'azoto fa l'ossigeno di modo che si interconnettono e formano l'aria, con l'argon che si intromette, se non ci fosse questo non ci sarebbe l'aria. Tutto è reciprocità. Chi capisce questo diventa un uomo nobile. Confucio non era democratico nel senso usuale del termine, cioè non pensava che tutti gli uomini fossero uguali, per niente. Era un conservatore in politica, era un aristocratico, proprio nel senso letterale del termine. Aveva questo senso profondo che esiste una differenza tra gli esseri umani. Ci sono gli esseri umani che lavorano su se stessi e sono i migliori, gli uomini nobili, che possiamo chiamare aristocratici, ma non nel senso della nobiltà del sangue, non sapeva cosa farsene di tutto ciò. Parlava della nobiltà dello spirito, della nobiltà dell'anima. Ed esistono invece gli uomini ordinari, da poco lui li chiamava, volgari, sporchi. Magari sono tutti profumati, puliti, così, ma dentro sono sporchi. e quindi esiste una trascendenza etica. Una trascendenza etica. E infatti se voi leggete gli analecta vedrete come un topos, come si dice, un luogo che ritorna in maniera ricorrente, esattamente quella distinzione, la distinzione tra uomo nobile e uomo non nobile, e uomo volgare. Adesso vi leggo un po' di brani al riguardo. La differenza si gioca appunto tra uomo nobile e uomo ordinario o comune, volgare, da poco. L'uomo nobile ha visione complessiva e non è parziale. L'uomo volgare è parziale e non ha visione complessiva. E ancora, l'uomo nobile è guidato dal senso di giustizia. L'uomo comune è guidato dal criterio del profitto. L'uomo nobile è pacato e fiducioso. L'uomo ordinario ha costanti ansie e preoccupazioni. L'uomo nobile cerca l'accordo e non l'uniformità. L'uomo ordinario cerca l'uniformità e non l'accordo. L'uomo nobile è interiormente quieto e privo di arroganza. L'uomo meschino è arrogante e inquieto. L'uomo nobile subisce le privazioni rimanendo perseverante. L'uomo volgare invece pensa come trasgredire pur di uscire dalle difficoltà. L'uomo nobile esamina se stesso. L'uomo ordinario esamina gli altri. Ma sono bellissime queste queste massime che si ritrovano. Non sono tutte di fila. Si ritrovano libro 2, 4, 6, 12, 13, 15. Adesso non sto a fare la sequenza dei numeri. Si ritrovano le ordinate. E quello che è importante è proprio capire che se si lavora qualcosa si ottiene. E quello che si ottiene è la nobiltà d'animo. Ecco questa era. Io sento che sono molto vere queste distinzioni. Perché proprio nella mia vita, nella mia esperienza di tutti i giorni si può dire ho la percezione di incontrare uomini nobili e di vedere la differenza rispetto a chi nobile non è. È una cosa che salta all'occhio. E così come quando si va in giro per strada e si vede che gli uomini sono diversi, gli esseri umani sono diversi perché uno è alto, l'altro è basso, uno è magro, magro, l'altro invece no. Uno è biondo, l'altro è nero, eccetera, eccetera. Allo stesso modo se ci mettiamo a osservare le persone dal punto di vista etico e spirituale vediamo che esistono delle differenze. E queste differenze sono date dalla qualità del lavoro, del lavoro spirituale su di sé. Possiamo conseguire la nobiltà d'animo se lavoriamo su di noi. Ecco, ultimi due passi. Una pratica assolutamente essenziale per giungere a questa nobiltà d'animo riguarda quella pratica di cui Confucio parla nel tredicesimo libro degli Analecta come rettificazione dei nomi. È un esercizio spirituale molto pratico, come tutti gli esercizi, ma più di altri insomma, che ciascuno di voi può compiere e compiendolo può generare nobiltà. Rettificazione dei nomi. Cioè si tratta di sottoporre a esame il proprio linguaggio. Si tratta di capire come parliamo. Si tratta di capire cosa diciamo. Si tratta di capire se le nostre parole sono o no collegate con la realtà. Se vogliono servire la realtà. Se sono in funzione di qualcosa di più grande del nostro ego, appunto la realtà, sono parole che terminano. Terminano. Il termine... le parole non mentono. Anche già la maniera con cui noi chiamiamo la parola, la chiamiamo termine, lo parliamo in vocabolo. E termine vuol dire che termina. Dove termina? Dove terminano le tue parole? Terminano sulle cose che stai indicando, le toccano o evaporano o terminano su di te perché vuoi con le tue parole sedurre. Vocabolo. Vocabolo è formato da due parole questa parola. La parola voce e la parola te bolo, il suffisso bolo, che rimanda al termine greco che significa gettare. Discobolo è quello che lancia il disco. Turibolo è... tu sturis l'incenso. Turibolo è quello che lancia, quello che... chierichetto, non so se qualcuno di voi intanto va in chiesa e ci senti al chierichetto che fa così, lancia col turibolo, si lancia l'incenso. Vocabolo si lancia la voce. E dove la lanci la voce tu quando parli? Dove la lanci? Vocabolo? Termine? E retta? La tua voce? E retta? Ha un obiettivo? Va? Colpisce? Raggiunge? O divaga? O parli per niente? Sentite, un altro discepolo si chiamava Zilu. Un giorno chiese a Confucio che cosa avrebbe fatto se avesse ottenuto il potere assoluto. E Confucio risponde... Sono domande che si capiscono, perché la scuola di Confucio era una scuola di politica, ma politica avete capito nel senso complessivo del termine, no? Quindi politica come coltivazione interiore, come coltivazione di se stesso con gli altri, e quindi anche come politica, come tutta una serie di atti, di circostanze. In ogni caso, torniamo al brano. Zilu domandò se il signore di Vei, Vei era un altro staterello, confinava con il principato di Lu. Quindi pensate, il principato di Lu era quello di Confucio, Confucio l'abbandona, e probabilmente sono nel principato di Vei, e magari avevano anche avuto dei contatti con il signore, perché con il capo del governo di Vei, magari questi contatti erano anche andati bene, e allora Zilu fa questa domanda e dice, se il signore di Vei vi affidasse il governo, Il maestro rispose, indubbiamente alla rettificazione dei nomi. Zilu esclamò, a quale tortuosità ricorre il maestro? Risposta di Confucio Riguardo a ciò che non si capisce, il nobile sospende il proprio giudizio. Se i nomi non aderiscono al proprio significato, i discorsi saranno privi di rapporto con la realtà. Se i discorsi sono privi di rapporto con la realtà, allora ciò che viene realizzato non sarà un vero conseguimento. Avete capito la domanda? La domanda di Zilu è, insomma, tu hai il potere assoluto, maestro, la prima cosa che fai qual è? Anzi, non dice tu, dice voi. Voi, maestro, avete il potere, la prima cosa che... E lui risponde a rettificazione dei nomi. E Zilu dice, ma che cosa stiamo dicendo? Insomma, i politici di solito dicono ben altro, è qualcosa di astratto, che cosa significa? E la risposta di Confucio è duplice, in due parti. Da prima lo rimprovera, dice, quanto sei gretto? Riguardo a ciò che non si capisce, il nobile sospende il proprio giudizio. Cioè, non hai capito? Sospendi il proprio giudizio, non giudicare subito. Semmai chiedi che cosa significa rettificazione e non perché mai una tale rettifica. Capite la differenza? E noi siamo portati, di solito, in prima battuta, subito a giudicare. Pensiamo di aver capito e se non capiamolo classifichiamo la cosa come negativa. Invece il nobile, se non capisce, sospende il giudizio e chiede. E non dice perché, ma dice che cos'è questa cosa di cui stai parlando. Questa è la prima parte della risposta. E poi Confucio risponde, se i nomi non aderiscono al proprio significato, i discorsi sono privi di rapporto con la realtà. E se i discorsi sono privi di rapporto con la realtà, le azioni non sono tale da ottenere il risultato prefisso, prefissato. Tutto parte dalla mente. Se non si definiscono le cose, se non si definisce che cosa si intende per sicurezza, per esempio, se non si definisce che cosa si intende per solidarietà, se non si definisce che cosa si intende per giustizia, eccetera, eccetera, se non le azioni poi non possono essere adeguate. Quindi tutto procede dal linguaggio, perché tutto procede dalla mente. Il linguaggio è esattamente l'espressione della mente. E quindi rettificare il linguaggio significa rettificare la mente. E' questo che vale per l'azione politica, vale per l'azione quotidiana di ognuno di noi, in ogni giornata. Concludo leggendovi questo brano del discepolo di cui vi ho parlato prima, Zengz. Zengz. Perché quando Confucio muore, Zengz scrive un'opera che fa parte di entrata nel canone dei classici confuciani, che si intitola Il Grande Studio, o qualcuno lo chiama anche La Grande Scienza. Attribuendo queste parole a Confucio, noi non sappiamo, è il stesso discorso di Socrate e di Platone, non sappiamo se Zengz dicendo Confucio disse, riporta effettivamente un detto di Confucio, o se è lui che scrive parole sue, che comunque in ogni caso si basano sull'insegnamento complessivo di Confucio. In ogni caso non ha molta importanza. Quello che è importante è capire la bellezza, secondo me, cristallina di questo brano con cui intendo concludere questa mia presentazione. Nell'antichità, attenzione, quando si dice l'antichità nei testi confuciani, si intende rimandare a un mondo ideale. Il grande mito di Confucio e dei confuciani è il passato. In questo sono molto diversi rispetto a noi, quando sentiamo passato è una cosa passata, è superata, non è via, non è finito. No, è tutto il contrario. Il grande mito è il passato. La verità è alle spalle, non è davanti a noi, è alle spalle. E noi dobbiamo continuamente studiare il passato per renderci degni della grande tradizione. Quindi è conservatore anzitutto in questa prospettiva il confucianesimo. Allora, nell'antichità, cioè nel momento nel quale le cose si facevano come si dovevano fare, nel momento della suprema giustizia, della suprema realizzazione, nell'antichità, per far risplendere la luce della virtù su tutto il mondo, si iniziava riordinando il proprio paese. Per riordinare il proprio paese si iniziava riordinando la propria famiglia. Per riordinare la propria famiglia si iniziava perfezionando se stessi. Per perfezionare se stessi si iniziava rendendo diritto il proprio cuore. Per rendere diritto il proprio cuore si iniziava rendendo autentica la propria intenzione. Per rendere autentica la propria intenzione si iniziava sviluppando la propria conoscenza e si sviluppava la propria conoscenza esaminando le cose. Immaginate una telecamera con uno zoom, cioè con un obiettivo dilatato, la panoramica completa, l'universo. Si tratta di mettere ordine nell'universo. E poi paese, famiglia, se stessi, il proprio cuore, la propria intenzione, la propria conoscenza e poi le cose. Cioè il rapporto tra la tua conoscenza e le cose, cioè il linguaggio. Comincia da lì. Comincia a capire il rapporto tra le cose e la maniera con cui te le conosci. Se analizzi questo poi risali. Poi risali, poi metterai ordine nella tua intenzione, poi nel tuo cuore, poi nell'insieme di te stesso, poi nella tua famiglia. E poi sarai un contributo per il tuo paese e così darai anche un piccolo contributo per perfezionare l'universo.